Ciao da Mio Pilates, benvenuto alla lezione detox. Per la lezione di oggi ti servono due palline, un po' d'acqua a disposizione, un materassino, ogni tanto chieni l'acqua vicino a te senza che io ti dica a bere, quando senti la necessità sorseggia un po' d'acqua, a fine lezione un bel sorso d'acqua, assolutamente una sedia, ok? Soprattutto per la parte, diciamo per la parte finale della lezione. Tieni un maglioncino vicino, nel senso che non devi percepire freddo, soprattutto alla fine quando ci rilassiamo, ok? E potrebbe abbassarsi la temperatura corporea e per cui adesso è la stagione in cui in casa a volte si può, come dire, sentire freddo, magari abbiamo riscaldamento spento, però c'è un po' di umidità, sera, eccetera, quindi cerca di non sentire freddo, quindi puoi tenere, diciamo così, un po' di un maglioncino lì vicino, ok? Molto bene. Allora, io ho il mio pizzino lì, vediamo, ok? Iniziamo a muoverci, sapete che la lezione è molto tranquilla, lo deve essere, ma non per questo non è efficace, ok? Perché a volte cerchiamo sempre l'intensità massima, però è perché cerchiamo determinati obiettivi. Qui cerchiamo di far muovere la linfa e come vi ho spiegato l'altra volta, ha bisogno proprio di un'intensità assolutamente moderata, ok? Perché la linfa, cioè diciamo si crea perché dalle terminazioni capillari, per effetto delle pulsazioni cardiache, quindi immaginate quando facciamo un'attività intensa, aumenta la fuoriuscita di liquidi dai capillari, i liquidi, ok? I liquidi interstiziali, buona parte di questi liquidi viene inassorbita, ma quando il meccanismo non è, diciamo, è un po' stanco, buona parte dei liquidi rimane negli spazi interstiziali, ok? Ecco perché cerchiamo di non aumentare così tanto la frequenza cardiaca, non deve essere un lavoro impegnativo da un punto di vista cardiocircolatorio, ma deve essere veramente un riscaldamento che semplicemente ci faccia muovere un po', ok? Riscaldare, sentire che la nostra temperatura aumenta un po' perché accade un sacco di cose nel corpo umano, respirare bene perché è una respirazione bella dinamica, oltre all'ossigenazione, i movimenti legati alla respirazione ci aiutano veramente a recuperare questi liquidi, ok? E quindi ci muoviamo per riscaldarci un po', quindi non dobbiamo assolutamente affaticarci troppo. La riuscita della lezione è nel mantenere un'attività di intensità assolutamente moderata, eh? Non sembra, però per questa volta non vi carico come al solito. Molto bene, ci fermiamo, poi ritorneremo a fare dei movimenti ciclici di quel tipo lì, ma intanto muoviamo le articolazioni, anche il muovere in generale il corpo anche così con gli esercizi tipici della mobility aiutano soprattutto a livello locale, eh? I tessuti a attivarsi. Quindi respiriamo e ossigeniamoci, manteniamoci in un ambiente caldo, quindi cercate di non avere freddo, quindi valutate se coprirvi. Molto bene, mani sui fianchi, spingiamo il bacino a destra e sinistra. E il mio ossigeno, mi allungo bene verso l'alto con la colonna e spingo il bacino a destra e sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, voilà. Fai fare al bacino degli ampi movimenti circolari attorno all'area dei piedi. Sto perdendo i pantaloni. Uno, due, tre, quattro, cinque. Fai l'altro giro. Questa lezione, tipologia di lezioni, amici, è particolarmente indicata alla sera, che indipendentemente dall'allenamento che facciamo, magari il peso della giornata, eccetera, ci fa accumulare un sacco di tensione, o anche dopo, per esempio, un'attività muscolare intensa, quando avete tempo. Altra cosa importante che vediamo soprattutto alla fine della serata, intanto unite i piedi e le gambe, quindi piegatevi un po' sulle ginocchia, sollecitiamo le ginocchia stesse. Utile, sono degli utilissimi esercizi di decompressione dei dischi intervertebrali, grazie alla posizione antagica che assumeremo con l'aiuto della sedia. E quindi a fine giornata è veramente un tocca sana per la vostra schiena. Cambio, l'altro giro. Ah, mi sono dimenticata, ragazzi, di dire di prendere anche la fascia elastica. Vediamo se riusciamo a fare anche un po' di stretch, è importante. E voilà. Ora, terminiamo questa parte e poi andiamo a recuperare la fascia. Alzo i talloni, oh là là, e giù. Non so le vostre caviglie, ma le mie hanno fatto un cric-rock. Forse l'avete anche sentito. Su e giù. Su e giù. Su e giù. Su e giù. Ancora uno. Su e giù. Ok. La prossima cosa che usiamo sarà la pallina, però tenete a portata di mano. Andate a recuperare la fascetta. Teniamola lì in aria, così quando sarà il momento sarà più facile recuperarla. Bene. Siamo alla parte, diciamo, dedicata alle attivazioni del sistema linfatico e circolatorio. Io quindi, in realtà, soprattutto linfatico, che è un po' più superficiale. Quindi faremo la pallina sotto al piede. Cosa c'è oggi? Ah, ecco perché ho spanto, ho spruzzato degli oli essenziali. Se ho preso il pavimento poi scivola, ecco perché mi scivolava ovunque la mia pallina. Allora, mi metto sopra il tappetino, guarda, se no ripeto la scena all'infinito, poi provvederò. Ok, andiamo senza portare troppo peso, diciamo, non dovete sentire male. Andiamo a simulare la pianta del piede, respirando profondamente. Mi ossigeno, mi rilasso, lascio andare proprio le spalle bene giù. Come vi ho spiegato anche l'altra volta, sotto la pianta del piede c'è un'importantissima rete fittissima di capillari. È considerata la pompa venosa, una sorta di cuore che facilita il ritorno. Ok, che è quello, diciamo, il percorso che il sangue fa un po' più difficile, perché contro la gravità. E oltretutto pieno, ovviamente, anche di terminazione. Si dicono terminazioni a guanto, quello dei, diciamo, delle terminazioni linfatiche, perché non hanno la controparte, cioè mentre nel sistema circolatorio abbiamo un capillare arterioso, ok, che si avvicina a un capillare venoso, d'accordo, e lì nascono le connessioni, gli scambi. Mentre a livello linfatico c'è una terminazione, anche se c'è a guanto, senza continuità, ok, e senza uno scambio diretto con un capillare di una parte opposta, come avviene nel sistema circolatorio. La sua comunicazione avviene con gli interstizi, con i liquidi interstiziali, quindi anche con le concentrazioni, le omeostasi, molto importante. Ok, dall'altra parte, ragazzi, facciamo un pochino l'altra pianta del piede. Lascio proprio la pallina quasi sotto, vedi, i piedi non dico paralleli, ma vicini. In questo modo il peso dell'arto stesso confluisce a dare quella pressione, diciamo, sufficiente. Ossigenati profondamente. Wow! Bene, ragazzi, riprendiamo un movimento, seppur per poco, una sorta di camminata laterale, ok, lo spettaccio, lo caro laterale, lo riconosciamo e respiriamo. Molto bene! Voilà! Tengo ora la pallina, ragazzi, fra i talloni, appena sotto l'area dei malleoli, piedi in parallelo, mani ai fianchi, elevo e abbasso i talloni. Uno, due, tre, quattro, cinque. Mi piego sulle ginocchia, lasciando i talloni giù, fai attenzione a non convergere le ginocchia. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ora mi piego, demi pieghe sulle ginocchia, resta, spingi in alto i talloni senza elevare la testa. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ora lascia i talloni alti, con le ginocchia piegate, da qui, stendi e giù. Stendi e giù, stendi, giù, stendi, giù, stendi, fammi l'ultimo. E voilà, lascio la pallina e riprendo a respirare, a muovermi in maniera molto... Come proprio l'andatura di un passo, ok? Voilà. Prendiamo la pallina e la posizioniamo dietro al cavo popliteo destro. Mi scivano, non era evidentemente l'olio, mi cade la pallina dalle mani. Allora, pallina posizionata dietro al cavo popliteo, ok? E quindi scendo, non chiudo completamente il corpo, eh? Una moderata intensità. Mi accuccio e sento la pressione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sblocco e cambio dall'altra parte. Posiziona la pallina, piedi abbastanza vicini. Scendo fino alla posizione di accucciato, un po' come se partissi dai blocchi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Voilà. Metto un attimo giù la pallina e sciolgo un po'. Respiro profondamente, mi muovo con intensità assolutamente moderata. Ora, vado a guardare il mio pizzino perché non vorrei perdere nulla. Ok, ok, fantastico. No, questo me lo ricordavo, assolutamente. Allora, andiamo a intercettare le clavicole con le mani. Appena sopra le clavicole c'è una fossetta che emerge, soprattutto se noi facciamo così. Alziamo i gomiti, ok? Alziamo anche un po' in avanti. Sentite veramente che riuscite ad affondare le dita qui nella cavità clavicolare. Ora, lasciate pure alti i gomiti, facciamo delle pressioni delle dita senza farvi male, è come se volessimo entrare. Ancora. Ancora. Ora, con le braccia intrecciate dalla base della mandibola alla base del collo, facciamo dei movimenti per muovere appena appena la pelle. Attenzione che non dovete arrossare la pelle, ok? Quindi la frizione è veramente minima e poco, più di una carezza. E mi ossigeno profondamente. Molto bene. Voilà. Anche da dietro la nuca alla base delle spalle, più pressione dall'alto verso il basso. Preparo la mano destra sotto la clavicola destra, la mano sinistra da sopra e con una leggerissima pressione, vado da destra verso sinistra, 30 volte. Uno, due, tre, quattro, cinque. La pressione maggiore è da destra a sinistra. Quando torni puoi o sfiorare la pelle o non toccare per niente. Otto, nove, dieci. Nel frattempo ossigenati bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ancora uno, due, tre, spalle giù, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sciogli le braccia. Con le mani sotto allo sterno, dove finisce l'osso proprio dello sterno, ci punto le dita, mi incurvo un pochino e faccio come per voler entrare senza farmi male, fino a dove i tessuti mi lasciano entrare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Ancora uno, ossigenati bene, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Mano sinistra nel punto che abbiamo trattato e tiro in su con la mano destra. Uno, due, linea centrale dalla mano allo sterno, quattro, cinque, sei, sette, otto. Accarezzo la pelle, non premo tanto. Mi ossigeno bene. Ancora. Andiamo a riscaldare l'area inguinale, non con l'intenzione di arrossare la pelle, solo di riscaldare. Fai più pressione dal basso verso l'alto. Quando scendi le mani toccano l'area inguinale ma non premono, premono invece dal basso verso l'alto. Molto bene ragazzi, adesso ci sdraiamo a terra. Passaggio, scusate le variazioni. Spero che nel frattempo vi siate comodamente adagiate. Teniamo in area la seggiola. La tengo anch'io un po' più vicina. Ok? La metto per il momento qua, così comunque vedete bene i movimenti. Fantastico. Teniamo anche il resto a portata di mano. Fanno molto bene. Mettiamoci comodamente a terra. Sentiamo come stiamo. Diciamo rilassate le braccia, rilassate le gambe. E adesso andiamo a intercettare la componente articolare che aiuta, come vi dicevo all'inizio, a stimolare la nostra circolazione linfatica. E poi partiamo proprio dal basso con dei cerchi eseguiti a livello di caviglia. Quindi quello che vedete muoversi saranno i piedi. Fermele anche, ferme le ginocchia. Mi ossigeno profondamente. Faccio l'altro giro. Molto bene. Facciamo piede flex, point, flex, point, flex, point, ossigenati. Ora tira sul ginocchio destro e cade la gamba. Ancora. Destro e giù. Adesso sperimenta proprio l'abbandono. Cinque volte dall'altra parte. Molto bene. Ora ritraggo ancora l'altra gamba, la destra. Apro in fuori il ginocchio e sciolgo. Andiamo a muovere bene la stipulazione dell'anca con dei cerchi. Molto bene. Cambiamo giro, ragazzi. Prima la gamba passa per fuori, si verticalizza il femore e cade. Cambio gamba. Prima tiro sul ginocchio, lo apro in fuori, la gamba scivola e si mette diritta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Faccio l'altro giro, quindi il ginocchio passa prima per fuori, infatti non lo vedi. verticalizzo, scivola un po' e quindi cado. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ritrai entrambe le gambe da fuori, quindi il fletti e porti al petto, mani sopra le ginocchia, fai fare i cerchi alle gambe direzione opposta. Uno, due, tre, quattro, cinque. Faccio l'altro giro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Fai fare le ginocchia allo stesso giro. Uno, muovendo un po' il bacino, vedi che i glutei in maniera alternata un po' si sollevano. Due, tre, ossigenati bene, quattro, cinque. L'altro giro, uno, due, tre, quattro, cinque. A terra con i piedi separati, piegate le ginocchia, alzo il bacino e scendo una vertebra alla volta, come un'onda. Inspiro su, come un'onda scendo. Inspiro su, come un'onda scendo. Inspiro su, come un'onda scendo. Ancora uno. Voilà. Fanne un altro per raggiungere la posizione di bridge. Ora, prima un bacino e poi l'altro. Pensate di toccare a terra. Uno, ferme le ginocchia. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E giù. Molto bene. Elevo le braccia e da qui facciamo fare alle braccia degli ampi cerchi. Uno, se riesci ad andare anche bene dietro. Io ho la ligureria, quindi le fletto semplicemente i gomiti. Due, tre, quattro, cinque. L'altro giro. Uno, due, tre, quattro, cinque. Solleva le spalle e le orecchie. E giù. Solleva. E giù. Solleva. Ossigenati bene. Voilà. Molto bene. Metto le mani sotto al sacro. Palmo in giù, quindi appoggio sul dorso delle mani il bacino. E faccio una bicicletta comoda. Non come quando a Pilates ti dico falla grande. Stendi bene. Morbida. Quello che ci interessa è muovere le articolazioni degli arti inferiori, mantenendo le gambe verticali. Senza fatica. Quindi rallenta un po' se io sono troppo veloce. Ok? E ora provo a sgambettare. Piano. È come se con il tallone lo faccio cadere per colpire il gluteo. Molto bene. E rilasso. Preparo le braccia in alto e vado a muovere bene i polsi, facendo fare alle mani dei grandi cerchi nello spazio, come un po' le ballerine di flamenco. Cambio il giro. Fantastico. Ora andiamo a prendere la fascia elastica. Ok? La raddoppio se fosse troppo lunga. Prendo il piede. E lasciami l'altra gamba piegata. Ok? E cerca di stendere la gamba sulla verticale o anche oltre, ma lasciami pari pari bene il bacino. Ok? Se non riesci a tendere la gamba sulla verticale, ti fermi un pochino prima. E a questo punto mi stendi anche l'altra gamba. Tira la punta del piede verso di te e mantieni bene lo stretching. Ossigenati. Molto bene. Cambio gamba, ragazzi. Parti con tutte e due le ginocchia flesse. Prendi l'altro piede. Stendi la gamba il più possibile sulla verticale o anche oltre. Pareggiale anche. Stendi a terra la gamba. Inclina la gamba laddove riesci a tenerla distesa con le anche pari, la schiena giù. Respira profondamente. Molto bene. E piano sciolgo. Metto da parte la fascetta. Mi metto sul fianco. Mano a terra. Mi aiuto a sollevarvi il corpo. Gambe divaricate leggermente, diciamo quanto neanche. Se riesci, le tene tesi, altrimenti un po' coflesse le ginocchia a schiena diritta. Allungati bene verso l'alto. Inclinati in avanti. Dalle anche. Vedi, vado a chiudere quest'angolo qui, busto gambe. E solo nella parte finale mi rilasso giù. Lasciando scendere i gomiti a terra e la fronte giù. Cammina con le mani a ritroso lungo le gambe. Non fare lo sforzo di risalita alla schiena. E prendetemi le due palline. Ci sdraiamo ancora. Nota bene. Andremo adesso a sdraiarci. Prima però mi posizionate. Vedete, con le mani vado il più possibile indietro per appoggiare le palline tra le scapole. E quindi mi sdraio e tolgo le mani. Ok? In realtà possiamo anche sfruttare il movimento del corpo. Adesso cercate di portare la pallina sempre fra le scapole, ma abbastanza, diciamo, a metà. Un'alto a metà. E muoviamo le braccia con dei cerchi. Attenzione che non è indolore per niente. Cerchiamo di rilassare i muscoli proprio rettori spinali affinché la parte successiva della lezione dedicata proprio anche alla decompressione della schiena che in parte abbiamo già fatto, avvenga con maggiore efficacia. Cerca di rilassarti. Se è troppo forte, allenta un pochino. Cambia, sperimenta. Cambia un po' posizione. Inalca un po' la schiena per togliere il peso. Devi sentire l'efficacia della pressione, ma non soffrire troppo. Ok? Forse troppo forte, fermati. Cerca di abbandonare le spalle. E respira. Ora con il corpo possiamo scivolare in su, rotolare in su, purché le palline abbiano, diciamo, mantengono una sorta di simmetria. Quindi se non le sentite più simmetriche andate a sistemarle. Diciamo che superiamo l'area delle scapole. Appena, appena, appena sotto le scapole. Respira profondamente. E anche qui puoi eseguire, anche se in realtà abbiamo meno efficacia con il movimento delle braccia, ma eseguo qualche movimento con le braccia per creare una sorta di massaggio, un aumento e una diminuzione della pressione. Anche spostare il peso a destra e sinistra funziona. Puoi spostare per esempio le ginocchia, un po' di qua e un po' di là. Molto bene. Voilà. Torna un po' più in su, individo un altro punto che non hai trattato prima. Anche qui ci possiamo muovere con le braccia, anche spostandole a destra e a sinistra. Ossigenati bene. Et voilà. Mi metto sul fianco, tolgo le palline e mi rilasso un attimino, respiro. Il prossimo step sarà quello di prendere la sedia. Quindi muoviti lentamente su un fianco, con l'aiuto delle braccia ti sollevi. E vai a recuperare la sedia posizionandola davanti a te, all'inizio del tuo... Oh là là, ah, si è chiusa. All'inizio del tuo tappetino. Ti suggerisco di tenere un cuscino sottile e andiamo ad appoggiare l'intera gamba dal ginocchio al piede, in modo da scaricare bene il peso di polpaccio, diciamo. Ok? Mantieni il sacco in appoggio, la manuca in su. Addirittura con le mani, guarda, puoi fare quello che è l'esercizio che talvolta facciamo in ipopressiva. Stacco la testa di un centimetro dal suolo. Con le mani proprio traziono l'attaccatura dei capelli, lontano, lontano, lontano. Decomprimiamo. Sollevo di pochissimo e allungo. Sollevo di pochissimo e allungo. Pensa di stare sempre in una posizione, diciamo, di allungamento, senza staccare il centro della schiena. Ora mi posiziono le mani qui nell'incavo delle anca, la piega dei pantaloni. Inspiri e come facciamo, spesso da in piedi, nelle lezioni di ipopressiva, premo via i femori. Crevo la stessa decompressione, diciamo, autoallungamento in direzione opposta prima. Inspiro, mollo un po', espiro con delicatezza. Fatelo in modo da sentire una piacevole trazione, ma non male. La schiena vi rimane tutta aderente, tranne un filino d'aria che ci può passare sotto la lombare, vicino al bacino. E quando dico un filino d'aria è davvero poca roba, eh? Non è che dobbiamo inarcare tutta la schiena e non staccare la gabbia toracica. Tutte le costole, cioè il dorso, restano appoggiate. E li rilasso, completamente. E levo il braccio destro sulla verticale, con il sinistro, alla mano sinistra, avvolgo ad anello, vicino alla scella, al braccio. E faccio come una... Stringo questo anello, premo e spingo la pelle in direzione della scella, ok? E poi, nella successiva presa, mi sposto nella direzione, diciamo, del gomito. E sempre, funziona sempre. Premo e scivolo un po' nella direzione della spalla. E così facendo percorro un po' tutto il braccio. Cambiate regolarmente, tenete sempre la stessa, diciamo, lo stesso orientamento dell'anello. Cerco di prendere anche un poco dietro al braccio. Faccio bene il gomito, spesso trascurato, eh? Nei trattamenti, dalla ginnastica. In realtà, sede di tante tensioni, di un'articolazione importante nella prono, supignazione e flesso estensione del braccio. Passiamo all'avambraccio, fino a raggiungere il polso. E quindi, con le mani, con la mano sinistra, con le dita un po' come un pettine, dal polso all'ascella, tiro in giù. La pressione è poco più di una carezza, non deve essere solletico, ovvio, eh? Ma una pressione che non ha l'intenzione di raggiungere i muscoli, ma appena appena è il sottopelle. E voilà, giù. Molto bene. Ora preparo il braccio sinistro in alto, la mano destra, la base, poco vicino alla ascella, pronta ad anello. Ti ricordi? Stringi un po' e premi, premendo, trascini un po' la pelle nella direzione della spalla. E così facendo, ti sposti, eh, di anello in anello, verso il gomito, e dal gomito poi al polso. Non stringere troppo l'anello, anche qui è poco più, diciamo, di una carezza. Insisti un pochino nell'area del gomito. e quindi transito attraverso l'avambraccio per raggiungere il polso. E qui sul polso, con la mano destra aperta tipo pettine, pettino il braccio dal polso alla spalla. e rilasso. Molto bene. Tutte e due le braccia su, le scuoto, un po' come se fossero delle alghe. Intreccio le braccia, gli avambracci, e metto le mani alla base, ti ricordi quello che abbiamo fatto all'inizio, alla base della mandibola, e massaggio dall'alto verso il basso la lunghezza del collo, dalla mandibola alla base del collo, con più pressione dall'alto verso il basso. È una pressione delicata, anche qui poco più di una carezza. Ancora come all'inizio, mano destra sotto la clavicola destra, e mano sinistra sopra, faccio una pressione da destra verso sinistra, sotto la linea delle clavicole, e ritorno senza premere. Quindi la pressione è solo nella direzione da destra a sinistra. Mi ossigeno. Nel frattempo la mia colonna si allunga, e a terra le gambe si rilassano. E voilà, mi riposo le braccia. La stessa cosa che abbiamo fatto per le braccia, lo faremo per le gambe. Partiamo con, qui servono due mani, ad anello, attorno alla coscia destra, in prossimità dell'anca. Chiudo, faccio come un anello, anche se non chiudo dita su dita, premo, e premendo scivolo verso l'anca. E così facendo, percorro la coscia dall'anca al ginocchio. Ti puoi anche avvicinare un po' il ginocchio al petto, così da poter raggiungere più facilmente il ginocchio. Stacca da terra il piede, insisti un pochino con il retro del ginocchio, ossigenandoti bene. e quindi transito sul polpaccio, per arrivare alla caviglia, ai malleoli, stendendo anche le dita, e da qui, dai malleoli all'anca, con le dita a pettine, massaggio. La pressione non intercetta i muscoli, non intercetta i muscoli, quindi appena appena sul sottopelle. Poco più di una carezza. E giù. Cambio, avvicino il ginocchio sinistro al petto, mani ad anello in prossimità dell'anca, stringo un po', premo e tiro in giù verso l'anca, e mi muovo piano piano, di un centimetro circa, poco più. Premo, la pressione è dal ginocchio all'anca, come direzione, il ritorno non ha pressione, dobbiamo favorire la circolazione linfattica, e sbloccare prima, diciamo, le valvole vicino all'anca, così poi potrà scorrere meglio la linfa, nei movimenti anche più generali, e più prossimali. andiamo anche sul retro del ginocchio, passiamo al polpaccio, una leggera pressione, verso il ginocchio, e così facendo raggiungiamo l'area delle caviglie e dei malleoli. e a questo punto con le dita aperte a pettine, dall'area dei malleoli all'anca, con una pressione che è poco più di una carezza, assolutamente non raggiungo i muscoli, prima è il sottopelle. e giù. sollevo entrambe le gambe lasciandole piegate e le scuoto. mi ossigeno profondamente, alzo anche le braccia e scuoto come fossero delle alghe anche le braccia. e cado su un lato. Con una mano a terra, mi aiuto a sollevare il corpo molto lentamente, muoviti piano. sistemati, se come me hai perso ogni situazione iniziale. Ora, gamba destra flessa con il piede flex, piede sinistro a martello, gamba distesa, mano sinistra al ginocchio, fuori l'aria, premo giù il ginocchio e scendo di lato. e ritorno. cambia dall'altra, entrambi i piedi sono flex, rimani in apertura con il petto e con le spalle. gambe unite, un po' piegate, piedi flex, di nuovo mi allungo, prima in diagonale, stacca le mani, vai oltre la pianta dei piedi e giù. e ritorno ancora una volta, mi allungo, prendi i piedi, e piano su, piano su, ultimo, allungati, prendi la pianta dei piedi, rilassa, e ritorno. molto bene ragazzi, un'ultima cosa insieme, alzati piano, se non hai l'acqua vicina, un bel bicchiere d'acqua insieme, ok? io bevo a canna, non si fa mai. Molto bene. Io vi ringrazio, vi auguro una bellissima serata, una bella dormita, un bacio, e ci vediamo presto.